Buongiorno a tutti, questa è la rubrica Bellino a leggere a cura di Todomodo per i lettori di Repubblica Firenze. Allora, Andres Barba, Andres Nicola, per la nave di Teseo, Caterina Folkmer, un cazzo ebreo per la nave di Teseo, due libri della nave di Teseo. Allora, questo in realtà è un libro che è stato pubblicato per la Sfere Libri nel 2011, è un vecchio libro, però ripubblicato da la nave di Teseo. Per la Sfere Libri, grande scopitrice di talenti. Eh sì, bravissima. C'è solo che mi sembra che l'avessi scopitato. Dopo il successo della Repubblica Luminosa. Ecco, questo è un romanzo scritto prima da Andres Barba, che è autore madrilegno, bravissimo, ha vinto mille premi, scrive saggi, poesie. Eh, se questa è La Repubblica Luminosa, Le Mani Piccole è un romanzo scuro. Sicuramente perturbante, perché indaga uno dei temi che Andres Barba evidentemente ama di più all'infanzia. Però l'infanzia vista da un punto di vista certamente originale. Evidentemente perché il precedente romanzo era La Repubblica Luminosa. E' stato pubblicato prima, però questo è l'ultimo romanzo, La Repubblica Luminosa. Questo è stato scritto prima. No, 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 ti spiegavo come dice evidentemente di tutti i casi, quindi è attratto dall'infanzia. Dall'infanzia e non solo, anche questo, agosto-settembre di Mondadori, che purtroppo è andato fuori catalogo, spero, La Repubblica, è dedicato a una storia di adolescenti. Quindi fa questa indagine ponendo però tutta una serie di questioni, sovvertendo l'ideale dell'infanzia come luogo dell'innocenza, ma partendo dal presupposto che lì proprio ci sono i semi di tutto quello che avverrà nell'esistenza, compresa la morte. E quindi è un libro che colpisce molto perché in realtà lui lo ha scritto dopo aver sentito leggere Rainer Maria Rilke, Il Requiem per un bambino morto. E lo stesso titolo, Il Requiem per la morte di un bambino, lo stesso titolo, l'undicesimo strofa della poesia, parla di queste mani appena incominciate. E vi sentivo dire promettete bene e ci sono tutto un sistema di rimandi per cui... Io non era noi e qua c'è tutta la vita di questa bambina, Marina ha subito un dolore incredibile, fortissimo, fece un orfanotrofio e io non era noi e quindi è il rapporto con questa comunità. Poi parla del seme, di tutti i sentimenti che poi si ritrovano nell'infanzia e quindi c'è la paura, c'è l'amore e la violenza, moltissima violenza. E quindi è un romanzo bellissimo che inizia con la paura, la morte e però finisce con la gratitudine. Allora, venne quella mattina quando ancora prima di conoscere questo libro, si squillò il telefono in libreria, la domanda è la seguente. No, è vero, buongiorno avrei bisogno di un cazzo ebreo. Allora, io che non sapevo che era uscito ancora questo libro, rifellì e ovviamente poi provocato mi reagisco, per cui sono andato avanti a parlare per un quarto d'ora utilizzando questo termine. Questo libro non fa in tempo a rimanere sullo scaffale che viene fulminato, evidentemente per il titolo, ma anche perché è forse un buon libro. Per cui il libraio incuriosito se lo porta a casa e se lo legge in un'ora e in effetti questo qui è un libro geniale. È molto difficile parlarne perché il titolo stesso nasconde lo stratagemma letterario che fa di questo libro un unicum, per cui è difficile. Io vi dico solo che il richiamo letterario è quello del Lamento di Portnoy di Philip Roth, per cui tutte quelle persone che nel corso di questi anni mi hanno riportato indietro quel libro dicendomi che era pornografia, forse non devono leggere questo libro. Siamo in uno studio medico, in uno studio medico c'è un dottore, due cui vengono descritte le mani piccolissime, secondo la voce narrante, quindi l'autrice, molto erotiche, e la voce narrante che è la persona che sta di fronte a questo medico e che parla a getto continuo, racconta i suoi sogni, le sue paure, ma soprattutto... E qui le mani fanno parte di tutti i giocchi erotici. Qua le mani sono importantissime, ma soprattutto i suoi sensi di colpa, e già qua potete intuire come mai questo è il titolo. Lei è una tedesca che si è trasferita a Londra, c'è anche la città, insomma è un libro irriverente, spiritoso, efficace, non banale, si addentra a degli argomenti spinosissimi, le volte quasi prende il political is correct, ma poi lo riprende subito, geniale. Quindi leggetelo, compratelo, un cazzo ebreo, Caterina, eh lo so, Folkmer, la nave di Teseo. Super novità questa. Andres Barba, le mani piccole, passate da poco, bellissimo. Alla prossima, Ruri.